L'Università di Salerno nell'occhio del ciclone per un'inchiesta che coinvolge alcuni docenti dell'Ateneo Salernitano. Ai nostri microfoni il Rettore Aurelio Tomasetti. Secondo la stampa, l'Università, i vertici dell'Ateneo, era una conoscenza di questa inchiesta? C'era una inchiesta che ha portato alla Procura un rivio a giudizio di due colleghi. Se saranno accertate responsabilità individuali nei successivi passi del procedimento penale, come è naturale, noi interverremo. Perché il nostro massimo interesse è quello di difendere l'immagine del nostro Ateneo, di difendere la reputazione che ha costruito nel tempo e l'attaccamento che ha tutto il territorio a questa Università, a partire dai propri studenti che rappresentano il patrimonio sostanziale della nostra Università. Lei è garantista in merito all'inchiesta? Cosa ne pensa? Cosa pensa che possa succedere anche dal punto di vista penale e soprattutto se si avranno delle repercussioni negative? Penso, sono garantista come ogni cittadino, che ovviamente confido nell'operato della magistratura e conosco le persone come agiscono e quindi sono sicuro degli esiti positivi rispetto alla vicenda. Noi sin d'ora, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche nei colloqui che abbiamo avuto con il Procuratore, diamo tutta la disponibilità nostra, offriamo la disponibilità a tutti gli accertamenti di carattere amministrativo perché è naturale che bisogna avere un atteggiamento di tipo trasparente e quindi bisogna concorrere nelle nostre possibilità all'accertamento dei fatti. Ecco, ricordiamo che tra le persone coinvolte c'è un nome di peso di questo Ateneo, il Professore Saverio Salerno. Ecco, lei personalmente ha avuto modo di parlare con le persone coinvolte, con i docenti indagati? Allora, questa è un'altra vicenda, rispetto alla quale quella che coinvolge il Professore Salerno non abbiamo avuto nessuna notizia se non quella presa dalla stampa. Io immediatamente ho scritto una lettera al Procuratore per chiedere di avere anche io delle informazioni perché l'ho solo desunto dalla stampa e quindi da questo punto di vista stiamo aspettando di poter capire ma mi pare di capire che lì non si sia aggiunto ancora un livello di decisione rispetto a che tipo di provvedimento assumere. Ovviamente, quello che è sicuro è che l'Università nel momento in cui ci saranno provvedimenti circostanziati vedete la decisione che in questo caso non sono ancora aggiunte a maturazione, prenderà i suoi provvedimenti. Capisco che è un momento particolare, c'è amarezza, c'è delusione. Un suo personale giudizio sulla vicenda? Il giudizio non è un giudizio definitivo perché ovviamente nel caso di specie, questo secondo, noi non sappiamo ancora degli esiti. Io credo che nell'interesse innanzitutto dei docenti coinvolti l'augurio è che si faccia presto perché ovviamente i docenti coinvolti, la propria Università, il nostro atereo hanno bisogno di sapere, di capire. Quindi noi siamo sicuri che gli esiti saranno positivi ma in ogni caso quello che ci auguriamo tutto il cuore è che si faccia presto e che si possa mettere la parola fine rispetto a questa vicenda.